Prima, superiore Sì Mi dispiace Nicolas Ti disturbo? Eh, non è bellissimo se non riesci più a respirare per il fumo No, 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 intendo che ora che ti ho chiesto un secondo Disturbo No, 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 non disturbi Ah, ok No, perché in pratica Volevo parlarti Che in pratica Praticamente Ieri è un Il mio Amico informatico Mi ha inviato Una clip In cui tu dici che tipo io Sono scomparso dopo che tu mi avevi regalato la powerline No Sì Nicolas, è un po' vero Non è vero Ah, ok, quindi ci sei ancora E non puoi dire fake news sul mio conto Perché io ti ho Ti ho scritto spesso Dove mi è scritto Nicolas? Su Discord E anche a Sicuramente non Non su Twitch Perché adesso che è scritto Ehm Pure su Twitch ho scritto Pure su Twitch Vabbè Vabbè Comunque Quindi ci sei ancora Nicolas Sì, però c'è Però non ci sei più No, no, no Allora non c'è nessun problema Beh, effettivamente quanto tempo è passato dall'ultima volta Un mesetto? Un mesetto? Eh, sì No, neanche No, no Scherzo Tre settimane circa Sì Sì Che eri andato in Venezuela Era una battuta In Congo In Congo, sì Ancora peggio A me non piace il Congo Perché sono africani Qual è il problema? Scusami un attimo Non mi piace il Congo Ah, il Congo non ti piace Ok Mi piace più Tipo, non so Il Marocco Il Mozambico Questi posti qua Cioè Ma l'hai visitati? No Quindi ti piace il nome che hanno scelto i loro Sì Sì Quindi, Nicola Quando ci sei per un altro coaching? Io anche oggi Anche oggi? Ok, perfetto Allora facciamo per le quattro? Allora Eh Sì Perfetto Allora dopo, Nicola Bentornato al Congo Un po' più prezzo se vuoi Quattro se possibile Mi fai semplicemente Va bene Allora grazie, Nicola A dopo Va bene Comunque Ciao Ho chiesto queste parole qua Perché In chat Ho Visto anche Gente che mi ha criticato Eh, vabbè È il problema di essere delle star, Nicola Verrai sempre criticato Anche se fai bene Vabbè Comunque Sei tornato Non sei scappato con la powerline Comunque Adesso La La connessione Cioè Io in gioco Non l'ago più Ora E andiamo Dai Tipo 20 fisso 30 fisso Non vado mai sopra gli 80 Ciao Baoletto Vorrei far passare un messaggio Visto le recenti dichiarazioni Evviva il Congo E congolesi Quindi Hai sempre 20 fisso Ma non vai mai oltre gli 80 Non vado mai oltre gli 80 Perfetto Va bene A dopo allora, Nicola Che ora sei in game Dai ti lascio Trajardare bene Grazie pingone Ciao Sellina Spero vinci Però spero Ciao 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 Ragazzi E' tornato Nicola Grande Nicola Start di Q Powerline Oh sarei un po' di merda Sei apatico Grazie Super Certo che potresti regalargliele Un paio di cuffie Con un microfono migliore Certo Potrei Se c'è qualcos'altro Magari anche Le test universitarie Potrebbe essere un'idea Ok Quelle costano Eh ragazzi Abili bene Le regate Costavano comunque Di meno Nella powerlines Mace Coba Bella Che flesh shadow è il capo E la gridi Peccato la gridi Non fa niente Ce l'ho da accontentare Però invece prendere la E mi è piaciuto molto Non mi aspettavo il bagger di Senna Non l'ho nemmeno preso in consiazione Ma che andrà sta facendo molto bene Ma non penso che sia un buon matchup Ai 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 Comunque come matchup Siamo più forti di noi Non c'ho manco il Time to open Opla No ma Bel dodge No ma senza Oh quale è morto La top sta parendo male La ZL è molto bravo Però penso che adesso che facciamo a livello 3 Possiamo essere più forti di loro Ma ringa già Siamo anche un po' sfigati Siamo anche un po' sfigati Ma no sono un po' stressato Non so perché Ah minchia Baronicolas Scusate Mi sono venuto in colpa Baronicolas Ma è una cazzata E poi sono entrato in game distratto Allora giochiamo per Questa non morirà mai Allora giochiamo per Sono tiltato Ai 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 Va bene succede Facciamo It up In game Mettiamo un po' di musica Ragazzi i mondiali li casteremo Eh boys Parliamo dei casting dei mondiali con la pozza Purtroppo sono molto distratto Manco muore Questa è la prima partita in un po' di tempo Che è Che tilt Ah ci sta Giochiamo per Drake Sì Ok Questa è la prima partita in un pc Questa è la prima partita in un pc Mi piacciono i tappi direi Chissà eh Magari possiamo vincere lo stesso Cioè ho tiltato ma Succede Poi è durato veramente poco 8 minuti Peccato l'ha missato Ah no non l'ha missato Mi piace questa possibilità Non c'ho molto affare Potrei prendere il cagaretto a botte Sicuramente non possiamo giocare Forse possiamo provare a rubarci un drago No 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 ma mia mia autotica è lì I can't wait to see what I'm going to do Orsi was saying a jar that's so No, but I don't know what I'm going to do You're a locket No I'm not going to go to radio I don't know This is a good back I don't know I don't know I don't know This is a good back This is a good back Comunque io non ho ripreso la partita e non sono più in tilt I still got C'è un giro, non? La LTP, sì Comunque ti dirò La situazione è migliata tantissimo Perché Vabbè, comunque c'è una roba di un flash 600 gold e io c'ho Voglio aspettare questo Non vorrei con la Guarda che l'ammazza adesso, cara Bene Mi prendo il carretto Dovrei avere da questo adesso Possiamo vincere, ragazzi Io non sono tiltato Cioè ho tiltato ma adesso non ho più Mi faccio il nezzo Magica esistenza com'è? Sì Non so se posso condividere con lui Purtroppo Comunque abbiamo perso addirittura le taglie Io ora ho un livello di vantaggio su stand Lo d'abbiamo, che ci sia Attraverto Sì E La La Quasi C'è Se E A A Possiamo vincere Ho ripreso un game ragazzi che non ho idea Sono iniziato veramente con la testa sbagliata Ciao Paolo Ultimamente non ti seguo tantissimo in stream Ma oggi sto un po' male E guardarti mi fa tornare ad anni fa Quando ero depresso e le tue live erano il modo migliore Per vivere con più leggerezza Grazie blind Riprendi depresso King E auguri per i due anni E grazie per le belle cose Adesso siamo event I dance so fine Giochiamo per... E grazie per la visione Per secco di potere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh. Allora. Possiamo fare il bar un po', sai? Allora. 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 tvb ragazzi e barlando che non c'è altro a fare non c'è è vero che aggredo Non posso neanche farla più bene Oh tutti con l'isin Vabbè ragazzi è bravo Però vabbè niente Con i miei meritori complimenti riceverò Io mi devo fare l'aggredaccio Mi faccio prima questo Anche se mi sembra la cosa meno efficiente del mondo Si mi piace invece Ok E' un'escrivito che non si può fare l'aggredaccio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti